Hai una voce da spot? Ci proviamo? Duetta questo video per scoprirlo. Quattro script, 50 secondi. Questa è la Commercial Voice Over Challenge. Pronti? Via! Cosa immaginate quando pensate al futuro? Astronavi, intelligenze artificiali, galassie inesplorate. Sì, questo è probabilmente il futuro che ci aspetta, ma non solo. Sono la tua voglia e voglio che mi ascolti. Voglio il calore quando ho freddo e il fresco quando ho caldo. Voglio nuova caldaia e nuovo climatizzatore. E lo voglio in omaggio. Uffa! L'estate non arriva mai. E se non arriva, allora parti tu. Senti come suona bene. Con BNL hai una risposta certa per l'acquisto della tua casa in soli 5 giorni. Sceglieranno la tecnologia ibrida di ultima generazione. Un motore 2.0 da 180 cavalli con l'emissione e i consumi più bassi della sua categoria. Ibrido senza compromessi.